ciao a tutti benvenuti ancora una volta qui su never ending movie sempre su lega nerd pronti a recensirvi a presentarvi le migliori uscite in un video oggi vi parliamo di life l'ultimo lavoro di daniele spinosa con rebecca ferguson jake gillenal e ryan reynolds eccolo qua life non è assolutamente il prequel di venom qualcuno si è divertito a raccontare questa balla ma è stato molto divertente anche perché in effetti lo ricorda anche questa volta abbiamo quattro formati il classico dvd il classico blu ray la versione steelbook del blu ray che ultimamente sono veramente strafighissime e l'edizione 4k ultra hd questa volta però fortunatamente anche per i futuri possessori del dvd gli inserti speciali sono tutti per tutte e quattro le versioni 5 contenuti speciali uguali per tutti i formati questa volta sembrano tra l'altro molto molto interessanti per cui andiamoli immediatamente ad analizzare il primo riguarda le scene eliminate sempre più spesso vediamo i trailer che hanno delle scene non visibili nel film per cui andiamo a completare la nostra curiosità nel vedere questo film e nel blu ray ce le cacciano sempre così possiamo finalmente soddisfare la nostra sete di curiosità il secondo è terrore claustrofobico creare un thriller nello spazio in pratica è il solito non nel senso negativo backstage per cui vedremo gli sceneggiatori gli attori il regista appunto che ci racconteranno come hanno fatto realizzare questo film del perché eccetera eccetera un po la storia che c'è dietro questo film in questo caso life il terzo si chiama life in assenza di peso e vedremo nel dettaglio gli attori reggitare in assenza di gravità tecniche curiosità e immagini su come effettivamente hanno realizzato queste scene complicatissime l'arte e la realtà di calvin è il quarto inserto speciale il quarto mini documentario che affronta un po la tematica della realizzazione di questo alieno andremo a capire con l'aiuto di chi ha realizzato questo film dei produttori del regista dei sceneggiatori e chi per loro del perché hanno voluto creare questo tipo di alieno del come eccetera eccetera sicuramente uno dei più interessanti che troverete all'interno di queste versioni l'ultimo inserto si chiama diari degli astronauti e è completamente inedito perché vedremo tre astronauti americani rory adams miranda north e hugh dairy che ci racconteranno un po la loro vita sulla stazione spaziale in assenza di gravità per cui insomma da una parte abbiamo la finzione del film e dall'altra abbiamo la realtà del vivere appunto in una stazione in mezzo allo spazio dvd blu ray blu ray 4k ultra hd e steelbook edizione speciali li potete sempre trovare tranquillamente nel punto media world più vicino a voi per cui decidete e fiondatevi immediatamente a prenderlo anche per questa puntata abbiamo finito vi saluto e ci vediamo al prossimo never ending movie ciao a tutti ciao a tutti